Emerge sempre più. Come si spiega la psicofonia? Commento Con le forze che ognuno ha in maggiore o minore misura e che molte volte usa inconsapevolmente nelle precognizioni, nell'evitare, per un impulso superiore, certe esperienze di cui poi non sa più nulla e non si accorge di averle evitate. È la sensitività che emerge sempre più per evoluzione raggiunta nell'umanità attuale.